Ha! E lo intervistano, lo intervistano il grande Nicola, malissimo, di merda si sente, è fatto schifo, qua è la prima volta che parlerai, questa, è questa, è un scemo. Grande Nicola, personalità pazzesca, se ne va così, questa signora, tanta roba amici, Nicolino, quindi abbiamo perso, abbiamo fatto schifo, ma è difficile questo cazzo di gioco. Dai, 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 con Nicola Pig. Allora, il mio team ha perso, adesso andiamo a giocare contro... E' Nicolino Pig. Quindi? E' decimo Nicolino. Nono. E oggi c'è il match contro... Cartis Axan. Mamma mia Nicola Pig. Questo è arrabbiatissimo. Nicolino... Crediamo in te. Difficilissimo questo gioco del wrestling. Dai Nicola, forza Nicola. Adesso rompo una bottiglia di plastica. Nicolino... Schiacciamo la bottiglina... Ehi! La presentazione... Di Nicola Pig. Siamo a Deadmonton... E il pubblico acclama Nicola Pig... Direttamente... Dalla banca. Eccolo qua... Eccolo qua... Nicola Pig... Incredibile... Nicola Pig... Nicola Pig... Eccolo qua... Eccolo qua... Eccolo qua... Eccolo qua... Mariano... Eccolo qua... Eccolo qua... Eccolo qua... Marianne Education... Contro questo... Curtis... Axel... Quasi... Cominciamo... Questo chi è? Che cosa è questo qua? Ti spacco la faccia? Ti spacco la faccia? Eccolo qua... Eccolo qua... Eccolo qua... Eccolo qua... Ti spacco la testa... Ti spacco... Cos'è Nicola Pig? C'è lei Nicolino? sta cosa no 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 nicola no no e cominciamo con la cassate urco dai nicola riminchiati però riminchiati nicola questi li senti clamorosamente eppa è stato di merda non ci sta non ci sta lo trascina così esagerato è una dura lezione un nicola pig ci prova così così nicola pig così questo bastardo però le prendiamo sempre meno ti va male ti va male oggi il calcio da dietro quanto mi sei scorretto soltiamo cos'è dai nicola dai dai prendilo questo pezzettone di merda cos'è bastardo no dai così rispondigli pugno in testa grave pig nicola tirato per i cappelli pugni nella testa malevoli cosa gli fa dai nicola ripigliati oppa 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 proviamoci proviamoci maledetto pezzo di merda riproviamoci nicola riproviamoci così 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 spoccolo girano girano così dai dai nicola dai dai nicola scott Benjamin fr inst collector proviamoci spezzando questo gastardo di merda di merda no no un ci siamo salvati all'ultimo madonna che stronzo che sei ma malissimo la cervicale di Nicola è una lezione vabbè ma questo è un colpo maligno così la reazione la reazione la reazione di Nicola no qua è un bruttissimo colpo ci salviamo ci salviamo per l'ennesima volta Nicola tirati su Nicola dai questo qua veramente ha la ginocchiata in bocca te la potevi evitare voglio poi vederti quando vieni a chiedere un mutuo pezzo di merda eccolo qua no Nicolino stai lì non mollare questa è una mossa maligna qua ci vuole proprio finire ci vuole finire no abbiamo perso abbiamo perso però ce l'abbiamo abbiamo lottato fino alla fine si è visto qualcosa di discreto è dura grazie a tutti grazie a tutti